In scena questa sera al Master Class di Pianoforte, che si svolgerà fino a domani ad Acquarica del Capo, i Music Ensemble. Formazione cameristica nata con l'idea di promuovere e diffondere l'ascolto della musica classica, flauto, sax, soprano, violino, sax, alto, violoncello e pianoforte, per proporre l'opera lirica, poemi, descrittivi e sinfonie. Il nome della formazione è stato scelto per rendere omaggio a una casa musicale del Nord Europa, che ha ideato gli arrangiamenti proposti. In palio una borsa di studio che consisterà nella partecipazione al corso di perfezionamento che si terrà presso il Conservatorio di Musica di Ginevra nell'ottobre prossimo.